Cossu, questa è una vittoria per voi importantissima, ma forse ha una dedica speciale? Sicuramente la dedica è per il nostro presidente che è lì che sta lottando e speravano una vittoria per lui. Gran possesso palla nel primo tempo, però un po' sterile. Poi nel secondo tempo avete segnato due golle, avete legittimato questa vittoria. Cos'è mancato nel primo? Sicuramente l'atteggiamento del Pescara non ci aiutava perché rimanevano tutti dietro la linea della palla, perciò era difficile creare spazi. Una volta sbloccata la partita siamo riusciti a tenere palla, a fare il secondo gol e meritare questa vittoria. Questa è una vittoria pesante, no? Sì, sicuramente. È un grande passo che ci avvicina alla salvezza. Ibarbo, questa è una vittoria di quelle importanti che pesano. Sì, sappiamo che era una partita molto importante per noi perché sappiamo che è un rival diretto. Grazie a Dio abbiamo preso i tre punti e giocando bene nel secondo tempo. Nel primo tempo avevamo un po' senza spazio per prese la palla, ma grazie a Dio abbiamo vinto. Non è stata una settimana facile per voi? Non era facile affrontare questa partita? Sì, perché abbiamo avuto dubbio sul tema del Presidente, del nostro stadio, del nostro campo, ma noi lo lasciamo a parte. Noi siamo calciatori, siamo professionalisti e sappiamo come affrontare questo lavoro. Grazie. 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 Grazie.